Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, Coxara di Porto Mantovano ha organizzato questa pedalata e remata a scopo benefico, per cui biciclette e rematori insieme, a ritmo di musica, per riuscire a raccogliere un po' di fondi da devolvere ad ABE, Associazione Bambini Omopatico Oncologico, e contribuire in qualche modo a realizzare l'ABE o Bolla, la parte ludico-recreativa che verrà costruita già in fase di realizzazione sulla nuova pediatria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Siamo contentissimi di poter fare questo evento anche quest'anno e speriamo di raccogliere una buona cifra, di poter aiutare molti bambini. Siamo contentissimi di poter aiutare molti bambini. Siamo contentissimi di poter aiutare molti bambini. E quindi, con questo ritmo, ci riposciamo dopo. Ok? Aspetta! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.